Si va con Rufoli Lung che sopravvanza Rambo ZS, quindi allargo Reisov B, Reisov va su Rufoli che però la contiene, Rufoli Lung in vantaggio all'invoco della prima curva, deve spendere perché Reisov non ha trovato posizione, lo strappo dice 13,8, Reisov da una posizione peggiore scoperta, Rambo ZS è serato sotto, poi c'è Rosita B e Rotten Ok che si mette su due gambe, riprende in mano Mario Minopoli, vorrebbe andare perlomeno terzo ma non può farlo, Corsa disastrosa per lui, in terza ruota viene via Rotten Ok che però sbaglia ed ecco il favorito 1,34, di galoppo sul cercare di sopravvanzare Reisov B, 500, la notizia è che non c'è più Rotten Ok, sono rimasti in quattro, in vantaggio Roberto Androghetti con Rufoli Lunghi, 600 in 44,7, 39 dopo lo strappo Rambo ZS secondo, terza Rosita, quarta è nata mettersi Reisov, La corsa adesso è una non corsa, non c'è nessun tipo di velocità, tutto vantaggio di Rufoli Lunghi che arriva a completare metà gara in 1 minuto e 5 decimi, parziale in 31,6, non c'è stata accelerazione, non c'è stato nulla, a mezza ruota Rosita B che però aspetta ancora venire via, Rufoli mantiene 1,5 di vantaggio a 6,50 dal traguardo, il chilometro di Rufoli Lunghi tutto sommato costante, anche se tattico, 1,15, 9,31 dal palo metà retta di là, Rufoli ha una da gestire su Rambo ZS, poi Rosita, Rosita, ancora Reisov, non succede niente, il quartetto sempre così, ben incolonato in fila indiana, in bocca dell'ultima cura quando Rufoli inizia a accelerare con un paletto in 15,1, 1,39 per il 1,2, sposta Rambo ZS, si infila Rosita B, Rambo all'attacco di Rufoli che deve riargomentare, Rufoli prova ad allungare, Rambo è cattivo all'esterno, poi Reisov che si ripropone, sembra lunga Rosita B, ingresso della retta con Rufoli che ha tre quarti da gestire, ma Rango all'esterno a suo attacco, Rufoli di dentro, Rambo di fuori, poi Rosita, bozza Reisov, Rufoli stacca a 100 dal traguardo, Rufoli lunga, ve la vince nel più facile dei modi, 2 avanti, Rambo ZS, Rosita B, Reisov B, 29,4 la chiusa, 2 minuti e 4 decimi, 1,15,2, la media al chilometro, cost to cost, facile facile per Rufoli lunga, Roberto Andranghetti, colori della Blue Moon SNC, la quota al totalizzatore dice 4,44, 1,15,2, buon prospetto, Rufoli lunga Grazie a tutti